La settimana scorsa il comune di Torrice ha approvato il bilancio previsionale del documento unico di programmazione. L'assessore alla bilancio del patrimonio immobiliare, trasporti, turismo e centro storico, Gianmarco Florenzani, spiega in che consiste il bilancio previsionale. Intanto siamo stati uno dei primi comuni della provincia di Frosinona ad approvare il DUP e il previsionale. Nel previsionale è risultato un bilancio totalmente in sicurezza. Ciò ci è stato detto dal revisore del conto che ci ha fatto approvare gli equilibri di bilancio che sono perfettamente quadrati e abbiamo previsto, grazie anche alla campagna Pagare tutti per pagare meno, un bilancio sano che nessun taglio sulle voci del sociale. Anzi, abbiamo previsto l'investimento per rispettare i punti del programma, come quello del tax sociale, fondi sulla cultura, fondi sul turismo, grazie alla progettazione in collaborazione con la Regione Lazio, fondi sulla viabilità e sulla scuola e sulla riqualificazione del patrimonio immobiliare. Quindi siamo veramente molti soddisfatti. Un ringraziamento a tutta l'amministrazione e agli uffici della ragioneria che ci hanno sostenuto e al revisore del conto che grazie anche a loro abbiamo potuto rispettare questi tempi record. L'assessore Florenzani replica poi all'opposizione che accusava l'amministrazione Assalti di non aver inserito nel documento di bilancio previsionale alcuni debiti pregressi. Mi meraviglio dell'opposizione perché è stata più fuori il Consiglio che dentro. Loro in Consiglio hanno dichiarato chiaramente che non avevano avuto tempo, chissà perché, non sappiamo il motivo, per leggere i documenti del bilancio per cui credo che non abbiano visto bene perché comunque noi abbiamo previsto dei fondi sia per le soccombenze legali e per le passività pregresse. Dei fondi che teniamo di sicurezza, che abbiamo tenuto di sicurezza all'interno del bilancio. Fanno anche un po' di confusione tra decreti ingiuntivi esecutivi e decreti ingiuntivi sospesi. Parlano di quel solito debito dell'ENI che non è un decreto ingiuntivo esecutivo, è un decreto ingiuntivo che è sospeso, sul quale c'è una causa e sul quale il giudice ha già stabilito la sospensione perché vede il fumus boni iuris nelle ragioni presentate dal Comune. Per cui totalmente le solite polemiche infondate e sterili.